è fatta la Lazio acquista l'erede tra virgolette di Milinkovic Savic il giocatore che andrà a ricoprire il ruolo di Sergei Milinkovic Savic stiamo parlando di Matteo Gwendonzin giocatore che conosciamo non tutti lo conoscono ma adesso ve ne andrò a parlare andrò ad analizzare le cifre e i dettagli dell'operazione e ovviamente un po' della sua carriera vi dirò quello che ha fatto e poi darò a fine video un voto a questa operazione quindi rimanete fino alla fine del video ciao ragazzi e bentorni in questo video qui già per oggi siamo qui ragazzi siamo appunto qui ragazzi in un video di Calcio Mercato oggi parliamo di Calcio Mercato Lazio andremo ad analizzare l'ultima operazione fatta in casa Bianco Celeste quindi l'arrivo di Matteo Gwendonzin un centrocampista che mancava si è visto già l'assenza in queste prime due partite di campionato un centrocampista di rilievo come Gwendonzin possa portare secondo me posso aiutare la manovra di costruzione del gioco di Maurizio Sarri prima lasciate un mi piace per ovviamente fatemi sapere la vostra che cosa ne pensate qui sotto del giocatore se lo conoscete che cosa ne pensate come si può abbinare nel centrocampo nello scacchiere di Sarri ovviamente e se siete nuovi iscrivetevi al canale attivate la campana per rimanere aggiornati tutto quanto alla settimana recuperate i scorsi video trovate qua sopra nelle schede a fine video vi ricordo che è sotto in descrizione di seguirmi sui social se vi va rimanete sintonizzati qui sul canale attivate la funzione della campana per rimanere aggiornati tutto quanto alla settimana non perdevi nessuna notizia per quanto riguarda il mio canale iniziamo subito con il video buona visione iniziamo subito la Lazio finalmente c'era già da un po' di giorni che si stava trattando tra Lazio e Marsiglia perché comunque il Marsiglia sta diciamo che va verso scadenza di contratto tra poco gli scadeva il contratto a Guenozi qui stava cercando di piazzarlo la Lazio è fortemente interessata Sarri era fortemente interessato al calciatore francese lo prendono ragazzi per una cifra veramente illusoria un prestito un prestito di un milione di euro e il riscatto si aggira intorno ai 12 milioni di euro quindi sarà pagabile in due esercizi quindi lo prenderà un milione di prestito con il diritto o l'obbligo non c'è scritto qua i 12 milioni di euro penso che sia in base alle presenze del calciatore scatti l'obbligo non c'è specificato qui quindi in base alle presenze comunque ci sono anche presenti 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili quindi 5 milioni di bonus sono facilmente raggiungibili e inoltre ci sta anche il 10% sulla futura rivente proprio perché comunque il Marzia ci crede molto nel calciatore secondo me lo vedo perfetto nello scacchiere di Maurizio Sarri per quanto riguarda lo stipendio del calciatore lui dovrebbe andare a percepire all'incirca quindi far firmerà un quinquennale quindi fino a scadenza del 2028 per un contratto di 2 milioni e mezzo di euro più bonus a stagione quindi queste sono le cifre per quali si parla vi dico in sostanza comunque lui è un giocatore che ha giocato praticamente dovunque soprattutto in Ligan è stato il campionato maggiore che ha giocato perché ha giocato con il Marsiglia con l'Orient con l'Orient due volte sia Serie B che Serie A dell'Orient poi ha giocato in Bundesliga all'Ertabellino e ha giocato pure all'Arsenal che è diciamo nella stagione in cui è esploso definitivamente per poi approdare al Marsiglia diciamo che è un classe 1999 24 anni alto 1,85 m però è 1,85 m ma dotato da una buona struttura fisica perché comunque si non è un gigante di 1,90 m come magari era Milinkovic-Savic è 1,85 m ma è bello tarchiato diciamo belle spalle larghe bella robustezza fisica e ovviamente è francese centrocampista centrale ma all'occorrenza diciamo il ruolo il ruolo lui può giocare può fare il mediano come metronomo ma sicuramente rende meglio secondo me da mezzala perché è molto bravo anche nel dribbling diciamo può fare all'occorrenza anche il trequartista ma dubito che farà questo ruolo Crenzo che giocherà o da mediano o da mezzala secondo me nel scacchiere di Sarri quindi al fianco di Camada Luis Alberto secondo me questo potrebbe essere un centrocampo Guendonzi Camada Luis Alberto potrebbe essere il centrocampo ideale della Lazio c'è sta anche Rovella quindi Sarri in quella posizione può decidere come preferisce il suo scacchiere ideale per quanto riguarda e vi dico insomma chi è a lui ovviamente è un classe 99 quindi giovanissimo c'ha ancora ampi margini di miglioramento perché comunque c'ha 24 anni è un centrocampista d'utile capace di congiungere le geometrie e l'intensità quindi molto bravo in fase di impostazione ma anche in fase di interdizione è molto strutturato fisicamente come vi ho detto già prima è molto capace diciamo che secondo me abile sono me ideale per lo scacchiere di Sarri bravo nel palleggio nell'inserimento è capace di portare golle assist appunto alla squadra insomma quindi è un giocatore anche capace di portare bonus inserimenti 5 reti e 5 passaggi e diciamo che nell'ultima stagione ha procurato 5 gol e 5 assist al Marsiglia vi vado a dire un po' quello che ha fatto in questi anni aspetta innanzitutto vi dico un po' la sua carriera lui ha giocato inizialmente giocava all'Orient in cui ha fatto solamente 18 presenze e poi approda appunto all'Erta Bellino in Bundesliga in cui totalizza 24 presenze 2 gol e 3 assist poi sbarca appunto all'Erta Bellino che sta a dire un po' quello che ha fatto in generale nella sua carriera all'Erta Bellino 24 presenze 2 gol e 3 assist in tutte le competizioni ovviamente all'Orient torna ma fa praticamente solamente un assist in 30 presenze all'Arsenal diciamo che all'Arsenal in Premier League fa praticamente non segna fa solamente un gol fa solamente un gol ma non in campionato fa 82 presenze 5 assist e un gol quella maglia dell'Arsenal mentre al Marsiglia totalizza 103 presenze in tutte le competizioni facendo 10 gol e 19 assist precisamente in totale Ligan fa 81 presenze 6 gol e 12 assist in Premier League 57 presenze e solamente 2 assist in Bundesliga 24 presenze 2 gol e 3 assist poi con la nazionale francese totalizza solamente 7 presenze e un assist tra l'altro vince con la Francia anche la come si chiama la UEFA Nations League con la Francia e vince anche una coppa d'Inghilterra appunto con l'Arsenal quindi la coppa d'Inghilterra l'FA Cup in totale comunque lui ha giocato anche in Europa League ha totalizzato 23 presenze 1 gol e 3 assist comunque diciamo che è un giocatore abile nel bonus valore di mercato tra l'altro 25 milioni di euro e Lazio lo prende a un prezzo stracciato e secondo me avendo accumulato tante esperienze perché viene tra l'altro ha fatto anche dalle giovanili del PSG quindi ha accumulato ha giocato il 90% della sua carriera in Francia però ha giocato anche in Bundesliga in Premier League all'Arsenal ha il suo bel bagaglio di esperienza essendo anche molto giovane secondo me è il centrocampista ideale per Maurizio Sarri per il suo scacchiere come voto a questa operazione io do un rapporto qualità prezzo secondo me un bel 8 non voglio esagerare con i voti da voti troppo alti perché comunque bisogna vedere come si ambienta in Italia però il prezzo al quale lo prende la Lazio secondo me è un prestito di un milione di euro con il diritto barra obbligo di riscatto a 12 secondo me è un prezzo che ci sta quindi 8 ci sta come operazione vuoi sapere la vostra qua sotto lasciate un mi piace se non si è iscritti iscrivetevi da Già